Eccoci, siamo con Maurizio Acerbo, segretario del Partito della Rifondazione Comunista, che è stato anche lui in questi giorni a Firenze, dove si è tenuta quattro giorni per rilanciare un percorso che appunto vedeva insieme i movimenti e organizzazioni politiche sociali europee, Allora la prima domanda che volevo chiederti è proprio questa, qual è la tua impressione, che cosa ti porti dietro, diciamo, da Firenze e quale prospettiva possiamo rilanciare da lì? Ma guarda, innanzitutto ovviamente a vent'anni dal Forum Sociale di Firenze, che fu un passaggio dopo il G8 di Genova fondamentale, con una partecipazione di massa e una manifestazione oceanica contro la guerra, Ovviamente è impossibile fare paragoni perché allora il movimento dei movimenti era una realtà di massa, era una convergenza che aveva una capacità di mobilitazione enorme nel nostro paese e costituiva l'elemento propulsore dell'opposizione sociale. Oggi ovviamente siamo estremamente più deboli sia come partiti della sinistra radicale, tra l'altro mi sembra che ci fossimo solo noi di rifondazione per l'Italia, e siamo più deboli anche come reti di movimento e organizzazioni sociali, movimenti sociali, però questo non implica svilire il valore dell'iniziativa, anzi perché in un momento in cui l'Europa tende ad avere, a tornare nell'ordine attraverso due fattori, la guerra che vede tutti i governi europei allineati con la Nato, ma anche il fatto che la presunta rivolta populista di destra, questo fenomeno sovranismo a cui io non ho mai creduto, insomma non ho mai considerato una categoria seria, per me esistono il fascismo, il nazionalismo, il razzismo, il sovranismo, non so cosa sia, però è servito a produrre l'idea che ci fosse un'alternativa alla governanza neoliberista. In realtà, come stiamo vedendo, i sovranisti sono compiutamente organici alla governanza neoliberista e anche alla Nato. Da questo punto di vista, invece, l'ondata che avevamo auspicato di una critica al neoliberismo, nonostante si sia concretizzata nel verificarsi delle nostre peggiori profezie, sia sul piano della devastazione ambientale, sia della crisi economica, che è un fattore oramai permanente, insieme alla crescita delle disuguaglianze, delle aree di esclusioni e povertà, alla riduzione del welfare e del ruolo del pubblico. Insomma, tutto ciò che noi, come uccelli di Mauro e Agurio, profeti di sventure, dicevamo che sarebbe accaduto, sta accadendo. Rispetto a questo, però, non abbiamo più delle reti, né in Italia né in Europa, paragonabili a quelle di vent'anni fa. Come al solito bisogna ricominciare, diceva Rosa Luxemburg, che il nostro è un lavoro risisifo, quando sembra che ce l'hai fatta, che hai portato la pietra sopra una montagna, si ricomincia da capo. E noi siamo nella fase in cui, insomma, dobbiamo ricominciare per l'ennesima volta da capo. E quindi penso che si sia fatto una cosa buona e vanno ringraziate le compagnie e i compagni a partire da Tepper Transform, ma tanti altri che avete lavorato a questo appuntamento, perché intanto ritrovarsi insieme attiviste e attiviste di diverse generazioni, questo è anche importante, delle nuove generazioni come quelle dei Fridays, sia di attempati compagni con tanti anni di lotte alle spalle, però di sentire una compagna che in Polonia lotta contro il governo di destra, conservatore, antiabortista, omofobo, eccetera. E poi sentire un compagno che arriva dal Congo e che fa parte delle reti di migranti antirazziste in Francia e via discorrendo e anche ritrovare compagni e compagni dei partiti della sinistra europea mi sembra che sia stata una buona semina. Ovviamente a Firenze si era solo frammenti dei tanti gruppi, movimenti, partiti, organizzazioni sociali, ONG, però era una convergenza molto positiva, questa è una strada da seguire perché quello che sta accadendo io credo è che noi dobbiamo avere e credo che dovremmo portare questa posizione anche a dicembre al congresso del partito della sinistra europea. Noi dobbiamo lavorare assolutamente per costruire movimenti che abbiano nello spazio europeo. Una delle cose uscite a Firenze è che c'è la questione della guerra che è diventata costituente, noi lo dicevamo nel 2001, 2002, 2003, ma i fatti ci hanno ragione soltanto che la guerra non è più in Medio Oriente o in Africa e nel cuore dell'Europa e non è più con stati assai più deboli del blocco occidentale, ma oramai è tra blocchi che hanno le armi nucleari. Quindi in questo scenario costruire le reti dell'alternativa credo che sia fondamentale, quindi l'indicazione è sicuramente buona, sono uscite delle linee di lavoro, credo che noi dobbiamo proporle anche in sede di partito della sinistra europea, perché è una questione che non riguarda solo i movimenti, riguarda anche i partiti della sinistra radicale che tra l'altro se non hanno dietro movimenti sociali forti non sono in grado neanche di rappresentare un'alternativa politica come abbiamo visto in Italia negli ultimi anni. Quindi credo che a Firenze si è fatta una buona semina e dobbiamo continuare a lavorare per lo sviluppo di questo nuovo forum sociale europeo coinvolgendo di più sia negli altri paesi, ma anche nel nostro paese, perché se parliamo di convergenza, la convergenza va praticata anche superando dentro i movimenti steccati e recinti che sono assolutamente ingiustificabili. Lo erano ieri e lo sono oggi, insomma, con una destra molto prepotente al governo. Sì, hai ragione. Grazie anche per i complimenti. Il lavoro collettivo, in questo senso, ha pagato. Un tema di convergenze, veniamo un po' più alla dimensione nazionale. So che si sta lavorando perché Unione Popolare costruisca presto un appuntamento. Volevo un po' conoscere da te e sapere come si sta procedendo, che cosa c'è in calendario, quali sono le prospettive anche politiche che si avvano dentro Unione Popolare. Ma guarda, ovviamente il risultato elettorale del 25 settembre non è stato soddisfacente, quindi non era facile ripartire. Però le ragioni per cui avevamo promosso il processo di Unione Popolare, che è stato un po' sfortunato, perché la crisi di governo Draghi, che sembrava tutti avessero fretta di consegnare l'Italia a Meloni, non potevano aspettare la primavera, ovviamente ci ha impedito di attivare un processo dal basso che si allargasse il più possibile partecipato. Dopo le elezioni si è molto discusso, anche tra le forze promotrici, noi, PAP, DEMA e le ormai ex parlamentari di manifesta. Mi sembra che ci si è chiariti l'idea sul fatto che bisogna andare avanti. Come sai, io sono sempre stato convinto che non possiamo presentare in ogni elezione un simbolo diverso, almeno agli appuntamenti nazionali. Altre cose sono i comuni, ovviamente, dove ci sono anche dinamiche civiche, insomma, di altro genere. Però non è che si può fare ogni volta che si fa un simbolo, un'aggregazione, poi la si mette nel cassetto, poi rinasce, perché poi l'esigenza dell'unità, della convergenza permane e si ripresenta però un mese dall'elezione, una volta successiva. Siamo partiti, gli elementi unificanti mi pare che siano maggiori delle differenze, perché gli elementi unificanti sono innanzitutto sul piano programmatico, quelli dell'opposizione alla guerra, dell'alternativa al neoliberismo, un ambientalismo coerente e anche un impegno forte per l'attuazione della Costituzione, non per lo smontaggio della Costituzione, a cui si sono dedicati centrodestra e centrosinistra negli ultimi trent'anni. Quindi adesso mi pare che ci siamo chiariti su due questioni fondamentali, poi il resto lo vedremo tutti insieme. Uno è che Unione Popolare non è un nuovo partito, ma è un movimento unitario di cui faranno parte partiti come Rifondazione o PAP o DEMA, ma anche singoli militanti, attivisti, intellettuali, persone, cittadine e cittadine che vogliono partecipare a una soggettività unitaria, a uno spazio unitario di lavoro politico e sociale. Io credo che bisogna andare avanti, è stata fissata, ci siamo messi d'accordo per costruire un coordinamento in queste settimane provvisorio e fare una prima assemblea nazionale il 4 dicembre a Roma anche per esprimere le nostre posizioni su quello che accade in Italia e anche per allivare a lanciare un lavoro di iniziativa politica sui territori che spontaneamente già sta germogliando, però è bene che abbia regole, che abbia anche una spinta in iniziativa politica. Io sono convinto che Unione Popolare ha senso se fa politica, se una soggettività che fa politica pulita, che sia motore di movimento nella società di opposizione sociale di cui c'è bisogno, ma anche di resistenza culturale. Insomma, se ci sia un riferimento in un momento in cui noi abbiamo un governo che ha molte forze in Parlamento che fanno un'opposizione da destra al governo, cioè magari criticano la Meloni perché non è sufficientemente impegnata nella guerra in Ucraina, in realtà la Meloni è impegnata quanto lo era il presidente esecutivo, ma c'è Berlusconi che fa un'intervista, eccetera. Oppure oggi ho letto Maratin che dichiara che insomma rivedere la legge Fornero sarebbe pericoloso perché i giovani, insomma quelle corbellerie con cui hanno rubato anni e anni di vita a milioni di lavoratori, c'è bisogno di una opposizione al governo da sinistra. Unione Popolare è fuori dal Parlamento, ma la può fare da fuori dal Parlamento e cercare anche rapporti con le forze che io penso che si collochino sul piano programmatico in sintonia con le posizioni nostre, come è avvenuto nella manifestazione, nella grande manifestazione per la pace che c'è stata pochi giorni fa, che ha dimostrato che il nostro paese in realtà era un paese che non è vero che è diventato tutto di destra, anche perché la Meloni ha preso, insomma il complesso della destra ha preso il 28% in un'elezione in cui ha votato poco più della metà degli italiani, insomma abbiamo avuto la più alta tensione della storia repubblicana e la Meloni comunque non ha preso il 50% dei voti, ha vinto solo perché il PD ha fatto una legge elettorale per farla vincere, ma altrimenti probabilmente sarebbe all'opposizione come la Le Pen. Quindi penso che l'Unione Popolare si deve dare un programma di iniziative e di azione politico-sociale per fare l'opposizione, oltre a essere presente e far vivere tutte le battaglie, credo che abbiamo alcuni appuntamenti, ne cito alcuni, uno che ritengo principale è l'opposizione senza se e senza ma all'autonomia differenziata e l'altro è proseguire la lotta per la guerra e poi mettere in agenda una serie di questioni sociali che non esistono più, perché nel Mediterraneo Salvini e Meloni hanno ricominciato lo show sulle barche delle ONG, poi c'è introdotto l'attenzione lì, poi adesso c'è la polemica con la Francia, poi ci sarà un'altra cosa. In realtà il problema che l'Italia ha i bassi salari, che l'Italia ha avuto negli ultimi 15 anni un tasso di emigrazione all'estero pari a quello del dopoguerra, il problema di una sanità pubblica a pezzi e via discorrendo, tutto questo non si discute, noi dobbiamo cercare di imporre la nostra agenda sociale, pacifista ed ecologica a una politica, se no, che rischia di far discutere degli italiani e degli italiani, insomma di altro, perché finora abbiamo discusso di rave e di barche nel Mediterraneo. Faccio notare che quando non si sollecitano i peggiori sentimenti degli italiani, come è accaduto nell'accoglienza agli ucraini, nessuno ha fatto campagna xenofoba e in Italia nessuno ha protestato per l'apertura delle frontiere. In Africa c'è una situazione che è peggio dell'Ucraina e quindi che si aprono queste frontiere e a limite cerchiamo di trovare le risorse per far stare meglio tutti, noi abbiamo notoriamente molte proposte per far funzionare meglio gli ospedali e per finanziare la sanità, la scuola, la solidarietà eccetera, invece però credo che solo da un punto di vista di sinistra si possa criticare questo governo, mentre l'approccio di PD o peggio ancora del finto terzo polo è un approccio che rafforza il governo di destra. Grazie, hai citato tutti, manca un soggetto che sono i 5 Stelle, adesso il lancio di una campagna di legame territoriale, di strutture territoriali di Conte che apre appunto questa opzione, in parole povere qual è il nostro tuo rapporto, quale pensi sia utile e necessario confronto con il 5 Stelle? Io penso, come rifondazione, abbiamo già votato e dobbiamo continuare su questa strada, penso l'avevamo fatto anche con l'Unione Popolare, almeno anche Luigi Magistris, il nostro portavoce unitario, penso che noi dobbiamo proporre al Movimento 5 Stelle di costruire un polo, uno schieramento alternativi agli altri poli che abbia un carattere popolare, pacifista, ecologista e sociale. Qualcuno mi dirà ma i 5 Stelle sono incoerenti, hanno fatto questo, hanno fatto quell'altro, questo è tutto vero, lo stesso Conte è praticamente riuscito a incarnare posizioni politiche che io non riuscirei mai, diciamo molto... Esatto, però credo che l'elemento fondamentale sia non fare l'esame di sangue al Movimento 5 Stelle ma prendere atto che c'è un soggetto politico che ha intenzione, ha detto, di voler collocarsi a sinistra in un'area progressista e ambientalista e anche pacifista, io credo che bisogna fare la prova del budino e quindi non avere un pregiudizio nei confronti del Movimento 5 Stelle. Io ripeto, sono contrario a due atteggiamenti, quello dei compagni e delle compagne, ce ne sono molte, che non solo hanno votato Movimento 5 Stelle ma oramai hanno rinunciato l'idea di avere una sinistra propriamente di sinistra, cioè che abbia un'ispirazione socialista, comunista, seriamente ambientalista, anticapitalista, insomma di rinunciare a una sinistra sinistra perché tanto non si può fare e quindi diamo mandato al Movimento 5 Stelle. Questa mi sembra una resa sbagliata. L'altro atteggiamento che io ritengo parimenti sbagliato è quello settario per cui si dice ma io non parlo col Movimento 5 Stelle perché cinque anni fa, tre anni fa, due anni fa, l'anno scorso hanno fatto questo, questo e quest'altro. Io credo che bisogna verificare le cose e quindi se c'è la possibilità di costruire a partire dall'idea che almeno astrattamente condividiamo che c'è la necessità di una rottura rispetto alla politica dei governi degli ultimi decenni, è una strada che va praticata con pazienza unitaria. Poi se si verificherà che non c'è la disponibilità, come abbiamo verificato purtroppo alle ultime elezioni ne prenderemo atto, però io credo che va sempre praticata la via della costruzione dello schieramento più largo intorno ad obiettivi precisi perché noi rischiamo in Italia, altrimenti di avere non solo una destra fortissima, ma la prosecuzione dell'egemonia, seppur oggi in crisi, però hanno sette vite, perché vi ricordo già qualche anno fa, io mi ricordo un articolo dei Wuming, c'era Fassino, segretario dei DS, in cui si diceva che oramai erano finiti, eccetera, eccetera. Poi ovviamente invece questi purtroppo per noi rinascono, ma non rinascono nel senso che si spostano a sinistra, rinascono per fare politiche sempre più neoliberiste e anche sempre più guerra fondaglia, quindi sarebbe il caso di provare a costruire uno schieramento come in Francia, plurale, ma che sia in grado di contendere l'egemonia al PD, sull'area di sinistra e quindi a costruire le condizioni per una alternativa nel nostro paese. Quindi mentre costruiamo unione popolare, anche cerchiamo di costruire un fronte più largo, io la penso così, spero che tutto il partito sia d'accordo su una linea di questo genere, come lo è stato finora, almeno nei documenti che abbiamo votato, è che anche dentro un'unione popolare si abbia unitariamente questo orientamento. Noi abbiamo delle idee che sono potenzialmente maggioritarie e contagiose. Vi ricordo che quando scoppiò la guerra eravamo in pochissimi a dire, e quasi tutti extraparlamentari, a dire no all'invio di armi. Adesso, insomma, abbiamo fatto una manifestazione contro la guerra in cui c'erano la fila, pure quelli della Nato chiedevano, no vengo anch'io, eccetera. È indicativo, ma guardate che se si impone la discussione su qualsiasi tema serio, dalla sanità ai beni comuni al lavoro alle pensioni, le nostre opinioni, diciamo di quella della sinistra radicale, non dico dei comunisti perché si può essere di sinistra anche senza dirsi comunisti e per questo facciamo unione popolare, però le idee nostre sono molto meno minoritarie di quello che sembra dei risultati elettorali. Quindi sta a noi lavorare in questa direzione e chiudo dicendo che penso che sarebbe cosa buona e giusta se lavorassimo tutti insieme, unione popolare, rifondazione, ma anche tutte le convergenze in movimento e anche i partiti interessanti, a una bella lenzuolata di referendum sociali, ambientali e democratici per imporre di discutere per un po' di mesi in questo paese di cose serie e non delle fesserie di Giorgia Meloni e dei suoi ministri. Ti ringrazio, grazie ancora Maurizio, siamo sicuri che intanto ci incontriamo all'assemblea di dicembre e in questi giorni collaboreremo ancora per altri percorsi che sia come Transform Italia che come Transform Europa faremo insieme. Grazie ancora. Bye bye.